Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Un video importante, secondo me, molto importante. Un video che, esageriamo, sancisce un prima e un dopo. L'informazione che sto per darvi è passata, è arrivata, i musicisti l'hanno recepita. E io adesso con questo video la sto amplificando, quindi potremmo dire che una nuova era è appena cominciata. E perché? Una nuova era nella musica. Possiamo anche dire addirittura che è ufficialmente morto l'album, come lo conoscevamo noi, come è stato finora. E nasce una nuova forma di album vista più come una raccolta di singoli, non come un qualcosa che è legato a una pubblicazione a sé stante, magari anticipata da un singolo. No, tutto questo è finito. E questo video sancisce, secondo me, un ulteriore, diciamo, amplifica questo messaggio. Che è passato, non posso farci niente e non posso non darlo, perché il messaggio è passato. E quindi avrete letto il titolo, no? Come guadagnare di più con Spotify. Abbiamo visto nel video in cui abbiamo affrontato l'argomento delle dichiarazioni del SEO di Spotify, che diceva appunto che se alcuni artisti non guadagnano è perché questo traffico, ma la finestra è aperta. Diciamo che oggi è rinfrescatore, ma non dilaghiamo. Dilaghiamo, che poi io dico nei video non dilaghiamo, ma sarà corretto, non divaghiamo. Ho rivisto alcuni video in cui dico non dilaghiamo, ma non significa niente. Comunque, dicevo, il video in cui appunto abbiamo parlato del SEO che ha detto di Spotify che se alcuni artisti si lamentano che non guadagnano è perché hanno un approccio semplifico, no? E perché hanno un approccio, diciamo, antico, no? Pubblicano un disco ogni 3-4 anni ed è normale. Adesso la piattaforma Spotify funziona pubblicando più cose, singoli e più canzoni, sostanzialmente singoli. Una canzone alla settimana? Provate a pubblicarla. Ogni settimana una canzone nuova. e vedrete che avrete una crescita di ascolti, di follower, di anche streaming, quindi anche guadagni, introiti. Quindi questo messaggio è passato. Spotify funziona sostanzialmente come un qualsiasi social network, ok? Che cosa bisogna fare? Bisogna pubblicare costantemente. Come funziona YouTube, ad esempio? Un video al giorno. Certo, le canzoni non si possono fare. Si può fare una canzone al giorno, adesso no, ma chissà, chi ce lo dice che stiamo andando proprio in quella direzione. O una canzone a settimana. E capite che c'è, diciamo, un grosso cambiamento, ok? La gente non compra più la musica, la ascolta. Il musicista quindi è costretto, diciamo, a, per tenerlo inchiodato poi, alla fine tutto un discorso di attenzione per tenerlo inchiodato alla propria musica, gli deve dare sempre qualcosa di nuovo. Perché nella musica, come in qualsiasi settore, la parola magica è nuovo. La parola magica è sempre novità. La gente vuole sempre qualcosa di nuovo. E siamo arrivati anche nella musica. Questo concetto è passato, l'ho letto dopo queste dichiarazioni, ho letto articoli, dichiarazioni del SEO di Spotify che appunto diceva che le artisti che non guadagnano perché lavorano alla vecchia maniera. E quindi la gente ha cominciato a pensare, ma vediamo, proviamo a pubblicare più frequentemente. Che succede? E hanno scoperto magicamente che viviamo nel mondo degli algoritmi. E gli algoritmi premiano, come su YouTube, come su Instagram, penso, su qualsiasi social, gli algoritmi premiano la costanza. Ok? La costanza, sì. Anche se tu scegli magari un contenuto nuovo alla settimana, ma lo fai per sempre, diciamo. Questa cosa viene premiata dagli algoritmi. Quindi Spotify, una canzone nuova a settimana, vedrai che cresceranno. Ascolti, follower e guadagni. Non posso non dirvelo. Anche se, diciamo, io personalmente sono legato ad un altro mondo, un disco grafico, no? In cui c'era il disco, il supporto fisico, il CD o il vinile. E poi è arrivato l'MP3, è arrivato poi lo streaming delle piattaforme, è arrivato Spotify. Adesso siamo arrivati al punto che più contenuti pubblichiamo, se pubblichiamo più canzoni pubblichiamo, più singoli pubblichiamo, più cresciamo. Ok? Questo è il messaggio che è passato. E quindi, secondo me, da adesso in poi c'è un nuovo mondo musicale. E muore definitivamente quello precedente. Questa informazione è passata. Dopo le dichiarazioni del SEO, ho fatto un video, non so se ve l'ho già fatto sbucare, però andatevelo a vedere se non l'avete visto. Sullo streaming, no? Si può vivere di solo streaming? Sì, probabilmente sì, ma devi farti, diciamo... Il problema è che le canzoni non sono i video. Non sono video in cui tu parli, ne puoi pubblicare uno alla settimana, o qualche volta fai un video un po' più curato, un altro accendi la telecamera e parli. O non sono foto, no? Pubblica un post al giorno, no? Questo canale YouTube è nato, no? Con Facebook, tre anni fa, Facebook. Siamo passati, no? Fai un post al giorno, cresci, poi è arrivato Instagram, fai storie tutti i giorni, mettici la faccia, parla quotidianamente, crea un rapporto con i tuoi fan. I social funzionano così. Crea un rapporto quotidiano con i tuoi follower. E questa cosa adesso è traslata anche, cioè, se prima nessuno si azzardava a dire, no? Fare una canzone al giorno, fare una canzone a settimana, adesso ho sentito artisti. Ho sentito, ho letto anche musicisti che hanno appunto preso le dichiarazioni del sito di Spotify e poi hanno capito e provato e attuato questa cosa e visto che funziona. Funziona e quindi, ufficialmente, Spotify funziona come qualsiasi altro social, il problema è che abbiamo in mano delle canzoni. Che si fa con le canzoni? Dobbiamo preparare, cioè, canzoni, quante canzoni dobbiamo scrivere in un anno? Dobbiamo praticamente essere, cioè, comporre, registrarle, produrre. Cioè, comporre, registrare, pubblicare. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate e se avete attuato e se pensate, se avete sentito, cosa ne pensate appunto di tutta questa faccenda, se pensate di attuare un piano editoriale del genere, una strategia di pubblicazione, magari un singolo al mese o due singoli al mese. Ecco, vi do un consiglio, una strategia che mi verrebbe adesso. Preparate un po' di canzoni, anzi, registrate, diciamo, andate, spolpatevi, nel senso, spremete la vostra, diciamo, creatività, tirate fuori il maggior numero di canzoni possibili e poi ne pubblicate due al mese, per due o tre mesi, poi fate uscire un album e poi ricominciate. Magari, che cosa succederà? Usciranno due album all'anno, usciranno quattro album all'anno, quattro album... È veramente un momento storico, ragazzi. Siamo nella musica, stiamo passando da un vecchio modello, un nuovo modello. Il mio consiglio è, ovviamente, poi sfruttare tutte, quando pubblicate un singolo, e sfruttate anche tutto il discorso, il lavoro che facciamo con le playlist, cerchiamo di pubblicare in modo da sbloccare anche le playlist algoritmiche, in modo da, praticamente, ecco, essere suggeriti direttamente da Spotify. Vi lascio in descrizione, trovate appunto una lezione gratuita su questi argomenti, su come funzionano le playlist algoritmiche. Trovate anche il mio corso, Vincere su Spotify, se volete proprio approfondire, che è sostanzialmente un corso che ti spiega come promuovere un singolo su Spotify, sfruttando le playlist algoritmiche. Trovate tutti i link in descrizione, comunque il corso lo trovate su Vincere su Spotify.com. Quindi, se decidete appunto di attuare una strategia, ovviamente, pensate a tutto, pianificate, scegliete il giorno l'uscita, un venerdì sì, un venerdì no al mese, e poi fate tutto il lavoro che è necessario per poi anche far crescere organicamente gli ascolti del brano, le playlist e tutto quello che sappiamo. Vi lascio tutti i link in descrizione al corso e anche alla lezione gratuita per chi vuole approfondire. Dopodiché, quindi, che cosa succederà? Lo vedremo, però sicuramente è passato il messaggio, i musicisti l'hanno capito. Vuoi guadagnare di più, vuoi avere più ascolti, vuoi crescere organicamente anche più follower? Pubblica di più. Adesso lascio a te la scelta. Anch'io devo prendere una decisione in base a questa nuova informazione e quindi quello che succederà probabilmente saremo inondati da nuove canzoni. Fatemi sapere che cosa ne pensate e anche che cosa secondo voi succederà e se siete favorevoli o non favorevoli a questa informazione che è passata, se condividete questo messaggio e che cosa prevedete che succederà. E magari se già l'avete capito prima e magari già lo state attuando come strategia, ovvero una pubblicazione più frequente, scriveteci, scrivete nei commenti, scusate sono un po' offuso, scrivete nei commenti perché la notizia è... Scrivete nei commenti come vi sta andando, che risultati avete ottenuto. Comunque commentate qualsiasi cosa e mettete like al video così facciamo crescere il canale, iscrivetevi al canale YouTube, fatemi sapere e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!